Caprarica Caprarica conserva ancora la testimonianza tangibile del periodo medioevale, con le antiche stalle ancora ben conservate. Esse erano edifici adibiti al luogo di ricovero, manutenzione, nutrimento e riposo degli animali. Qui si allevavano pecore e capre per la produzione di latte e formaggi e per la lana, dalla quale venivano prodotte stoffe necessarie per il confezionamento dei vestiti. In questi luoghi, le donne erano solite lavorare nei periodi invernali, essendo questi ambienti riscaldati dal fiato degli animali.